Sarà l'Arzachena il prossimo avversario della Sassari-Torres nell'ottava partita di campionato di Serie D Girone G. Il match si giocherà domani alle 14.30 allo stadio Vannisanna di Sassari. In casa Torres l'imperativo categorico è vincere ogni partita. L'Arzachena di Marco Nappi è reduce invece dal deludente pareggio contro il Real Monterotondo.